Sarà un concorso, comunicare per non dimenticare, a selezionare i 10 studenti delle scuole superiori che dal 2 al 6 maggio parteciperanno al viaggio della memoria a Mauthausen ed Ebensen. Un'apposita giuria esaminerà gli elaborati. Sono ammessi tutti i formati, dai video alle rappresentazioni grafiche, che avranno come tema la deportazione. L'idea è sfruttare in qualche modo il lavoro dei ragazzi per raccontare la deportazione con nuove tecnologie ai loro compagni. Come dicevo, 10 di questi elaborati saranno premiati, valutati prima da una commissione e permetteranno di partecipare al viaggio della memoria. Il viaggio sarà offerto dall'amministrazione comunale che già dallo scorso anno, dopo le restrizioni per la pandemia, ha ricominciato a organizzare il pellegrinaggio laico verso uno dei luoghi dove sono stati deportati molti pratesi. Un progetto che ci permette di coinvolgere ragazzi da portare nel viaggio della memoria, che è un viaggio in qualche modo che celebra il nostro gemellaggio con il comune di Ebense, un comune dove si trovava un campo di sterminio nazista, e che è stata la base per costruire un rapporto di amicizia tra due comunità, fondato sulla storia e con la volontà di perpetuare i valori comuni legati alla memoria di quei fatti così tragici. A fare da tramite con la scuola è l'area Terrispo, che rappresenta tutti i dirigenti scolastici. Quest'anno sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e quello del Sentiero Blu, affetti da sindrome dell'autismo, che frequentano la struttura del Santa Rita.